Il sindacato CisleFP ha chiesto all'Asp di Caltanissetta di assumere provvedimenti nei confronti di un medico in servizio a Niscemi, in quanto il professionista, stando a quanto denunciato dal sindacato, avrebbe aggredito un operatore del 118. Questo almeno è quanto comunicato dalla CisleFP tramite il segretario generale per le province di Agrigento Caltanissetta ed Enna, Salvatore Parello, e il segretario territoriale Giovanni Luca Vancheri. I due segretari hanno spiegato che l'episodio in questione risale ai giorni scorsi, precisando che il professionista sessantenne avrebbe colpito l'autista dell'ambulanza sulla quale viaggiavano con un pugno al volto, dopo aver tentato di imporgli di rallentare nonostante si trattasse di un intervento urgente a seguito di incidente stradale. Il tutto è stato denunciato anche alle autorità preposte. E sempre stando a quanto emerso finora non si tratterebbe del primo caso del genere. Il sindacato ha inoltre aggiunto che finora non sono state attivate misure disciplinari. Abbiamo anche provato a contattare l'ordine dei medici senza ricevere risposte e restiamo in attesa qualora lo stesso ordine o l'ASP desiderino intervenire sulla vicenda.